In questo momento, in tutto questo anno, abbiamo avuto moltissime difficoltà. Devo dire che la Presidente Mezzola ha raccolto il testimone lasciato dal Presidente Sassoli e lo ha esercitato nel modo più corretto e anche più incisivo possibile, dando importanza all'azione europea contro questa guerra ingiusta in Ucraina e soprattutto manifestando in questo momento un particolarissimo rigore nei confronti degli scandali che sono stati scoperti in questo Parlamento.